Buonasera a tutti e benvenuti. Nel video di oggi vorrei innanzitutto dare così un breve aggiornamento della situazione di questi giorni che non ha visto così secondo me notizie eclatanti ma comunque prosegue così un po' tutto quel trend di cui avevamo parlato nei video precedenti così alcune notizie che vorrei brevemente accennare e poi vorrei dedicare il video alla domanda che una di voi che mi segue mi ha fatto in uno dei commenti chiedendo un video appunto sui futures. Io ho fatto vari video su strumenti finanziari ma pensando al canale appunto come un canale per piccoli investitori, persone che non conoscono diciamo il mondo del risparmio e della finanza e vorrebbero così un po' capire anche per prendere scelte autonome magari anche consigliati da professionisti, non lo so, insomma approfondire l'argomento però comunque avere così un'idea di massima poi magari per capire anche cosa si vuole e riuscire proprio a capire personalmente cosa fare. Quindi diciamo partendo da questa idea ho fatto dei video su strumenti pensati per i piccoli investitori, sono stati i primi video del canale quindi azioni, obbligazioni, titoli di stato in particolare e ho fatto anche un video sulle opzioni diciamo come strumento per poter scommettere anche al ribasso sul mercato cioè avevo fatto un video in cui se volete lo inserisco qui sotto in descrizione in cui parlavo di strumenti finanziari che si possono utilizzare quando il mercato è al ribasso e in particolare citavo così brevemente le opzioni put, gli etf short che sono appunto degli etf però diciamo invertiti quindi se l'indice sale scendono, se l'indice scende saicono e poi appunto i futures che avevo soltanto brevemente accennato proprio perché poi vedremo bene nel video come mai sono strumenti estremamente speculativi oppure all'opposto di copertura del rischio ma in quel caso vengono utilizzati solitamente da chi svolge un'attività di impresa e appunto ha bisogno di essere sicuro in anticipo del prezzo che pagherà in futuro per una particolare merce eccetera quindi diciamo quella un'ottica un po' diversa altrimenti sono solitamente degli strumenti speculativi quindi in questo video brevemente senza andare troppo nei dettagli vorrei spiegare cosa sono anche perché effettivamente molti siti anche app per cellulare eccetera che io personalmente dico la verità non ho utilizzato quindi non posso neanche dare un giudizio così personale so cosa sono come funzionano ma non li ho mai provati però spesso propongono un po' come investimento investi nei mercati in realtà sono di fatto dei futures poi vedremo come funzionano estremamente speculativi ecco quindi vorrei brevemente spiegare cosa sono questi strumenti che poi sono stati resi famosi dal film una poltrona per due che ogni vigila di natale è una delle poche certezze del al mondo che trasmettano questo film e appunto in quel film si vede brevemente come funzionano questi strumenti finanziari futures appunto e anche il livello di pericolosità speculativa appunto perché i due protagonisti gli anziani insomma che avevano fatto così quel gioco crudele ai due protagonisti poi alla fine facendo la scommessa sbagliata si ritrovano in un attimo sull'astrico nel film è rappresentato bene sulle scene finali quando gli chiedono appunto di coprire i contratti e molti non capiscono il meccanismo di quel film quindi è anche così una nota per capire qualcosa che spesso si vede ma non si compende nel meccanismo però dà l'idea appunto dell'estrema pericolosità dei futures ecco e quindi iniziamo subito per quanto riguarda gli aggiornamenti come dicevo sono secondo me notizie che semplicemente danno l'idea del trend che si sta seguendo la prima riguarda il fatto che il tasso di cambio tra franco svizzero e euro è arrivato in parità parlavamo negli ultimi mesi del trend di perdita di potere d'acquisto dell'euro rispetto anche a tutta una serie di alte valute avevamo visto la sterlina inglese ricordo che negli anni dopo la brexit quando ancora si parlava dell'accordo di uscita eccetera la sterlina aveva molto perso valore è arrivata quasi alla parità con l'euro quindi un euro comprava quasi una sterlina 0,93 0,94 anche un livello del genere rispetto al tasso di cambio del passato che era anche magari qualche anno fa 0,70 così adesso da qualche mese è scesa 0,84 0,85 quindi la sterlina si è molto apprezzata rispetto all'euro stessa cosa il dollaro americano era intorno a 1,20 circa quindi un euro comprava un dollaro e 20 centesimi americani e adesso è a 1,04 1,05 dittura aveva sfiorato 1,03 quasi anche lì in parità e quindi significa appunto che l'euro si era depreciato anche rispetto al dollaro americano e avevamo visto nei video questo trend riguardava anche a parte altre valute particolari non so il dollaro canalese eccetera ma anche in particolare il franco svizzero che tipicamente storicamente è una valuta così di riserva è considerata una valuta stabile sicura per la situazione finanziaria anche della svizzera anche se ormai da anni non è più così il paese delle banche come si immaginava ma hanno creato un sistema di estrema trasparenza per cui non è più la destinazione di capitali ma stanno anche cercando un po' vedevo di così reinventarsi quindi per esempio molta apertura alle criptovalute cercano soprattutto in alcuni cantoni di stimolare molto la creazione di nuove imprese con forti incentivi anche fiscali cercano proprio anche di creare dei distretti delle idee ecco per esempio sulle criptovalute sono alcuni ma quindi cercare di creare un ecosistema di investimenti esteri attirare cervelli attirare imprenditori in modo da compensare il il fatto che le banche sono diventate ormai estremamente trasparenti hanno accordi con altri paesi quindi magari si va nelle banche svizze se si cerca magari una maggiore stabilità una tranquillità piuttosto che la segretezza che era storica anche nei film eccetera così come simbolo della svizzera e comunque appunto in forza di questa percepita maggiore solidità dobbiamo pensare sempre relativamente quindi magari con tutti i problemi e le sfide che magari può avere la svizzera comunque evidentemente per gli investitori rispetto all'euro e all'europa è più sicura almeno a livello di tasso di cambio e quindi questo è importante il fatto che sia arrivato in parità anche perché la banca centrale svizzera in realtà cercava come obiettivo di mantenere invece un tasso di cambio ad un obiettivo di 1,10 quindi cosa significava? Che loro per cercare di fare in modo che la loro moneta non si apprezzasse troppo rispetto all'euro faceva delle operazioni sul mercato di cambi per cui comprava euro, vendeva franchi svizzeri in maniera tale da cercare di abbassare il valore del franco svizzero proprio perché il loro obiettivo era fare in modo che per favorire anche esportazioni eccetera un equilibrio non si apprezzasse troppo la loro moneta ma c'è evidentemente talmente tanta richiesta di franchi svizzeri che non riescono a portare avanti questa operazione abbastanza da riuscire a mantenere quel tasso di cambio e quindi ormai da mesi vediamo un progressivo abbassamento come dicevo fino ad aver raggiunto la parità che è un simbolo secondo me anche della debolezza progressiva dell'euro che sta andando avanti in questi mesi con qualche piccolo rimbalzo ma di fatto anche rispetto al dollaro era risalito un po' a 1,06 così ma poi era andato giù quindi sembra che non ce la faccia e che il mercato dei capitali probabilmente per tutte anche le cause che abbiamo visto anche di autolesionismo energetico eccetera dell'europa hanno così penalizzato la valuta europea spaventato anche gli investitori europei ricordo le grandissime scommesse cioè investitori sulle azioni europee ricordo la grande scommessa a ribasso che ha fatto ridale abbiamo visto per miliardi di dollari oltre 10 miliardi di dollari investiti a ribasso su scommesse short su azioni europee quindi dall'idea appunto che non solo ridale probabilmente ma tanti altri comunque il mercato percepisce un rischio maggiore per l'europa rispetto a altri paesi che comunque affrontano quelle sfide anche comuni e come l'inflazione eccetera quindi questi sono gli aggiornamenti un altro aggiornamento su un trend è il fatto che il mercato immobiliare americano starebbe cominciando a raffreddarsi in particolare questo è legato al fatto che i tassi di interesse stanno via via aumentando da parte della federal reserve e questo da un lato così meccanicamente banalmente si dice siccome alzano i tassi di interesse stipulare un mutuo costa di più in termini di tasso di interesse quindi ogni rata aumenta in teoria sia a tasso fisso quando viene stipulato oppure se a tasso variabile a maggior ragione ogni mese viene aggiustata quindi la rata aumenta e questo cosa significa che una famiglia parità di reddito può permettersi una casa più piccola perché della quota capitale quota interessi aumenta la quota interessi e quindi significa che magari con lo stesso budget possono comprare una casa più piccola immaginate una casa da non so 500 mila dollari un mutuo magari di questi non so 300 mila sono interessi nel corso degli anni quindi costa tutto 800 mila se questi interessi diventano maggiori per comprare magari una casa da 50 500 scusate mila dollari magari gli interessi diventano 900 mila quindi costa 900 mila quel mutuo e questo quindi fa sì che a un certo punto la rata o aumenta e quindi meno persone possono permettersela oppure a parità di rata si può comprare una casa più piccola questo spinge a ridurre la platea di potenziali acquirenti e quindi il mercato immobiliare smette di crescere poi ripeto questo banalmente ma i fattori sono tanti un fattore per esempio che comunque ha fatto sì che il prezzo degli immobili non calasse anzi continua aumentare seppure rallentando è il fatto che la forte inflazione che stiamo vivendo anche negli Stati Uniti l'aumento del costo delle materie prime hanno fatto sì che i costi di costruzione di ristrutturazione degli immobili sono talmente lievitati che quindi automaticamente il prezzo delle case comunque c'è una spinta all'aumento nonostante questo perché le materie prime quello che circonda anche i materiali della casa sono talmente tanto aumentati che costruirne una nuova costrerebbe molto di più rispetto a uno due anni fa in particolare prima nel 2020 quindi chiaramente questo automaticamente aumenta il valore delle case quindi ci sono varie forze in gioco invece una forza un pochino al ribasso è il fatto che appunto l'inflazione se da un lato ha aumentato il valore delle materie prime della casa dall'altro lato ha ridotto anche molto fortemente il reddito disponibile delle famiglie quindi io facevo l'esempio della stessa rata che magari se aumenta il tasso di interesse le persone o si possono permettere una casa più piccola oppure come dicevo una rata più costosa ma a fronte di questo se tutto il prezzo del cibo dell'energia aumenta così tanto di tutto significa che rispetto allo stesso reddito una famiglia anzi può pagare anche meno di una rata di che pagava qualche mese fa e quindi a maggior ragione spinge così al ribasso la possibilità di acquistare una casa per molte persone quindi più piccolo quindi questo spinge al ribasso e si sta vedendo appunto con gli ultimi dati come dicevo sui prezzi delle case degli Stati Uniti che hanno abbastanza preoccupato i mercati il calo soprattutto di ieri ma insomma un po' di tutti gli ultimi giorni ormai stiamo vedendo che la borsa fa un po' scaletta scende giù poi risale un pochino scende così via quindi si sta sgonfiando il mercato immobiliare e scusate anche il mercato dicevo azionario uno dei fattori si ritiene possa essere anche così il timore di un calo del mercato immobiliare parlo degli Stati Uniti perché è uscita la notizia e ci sono parecchi dati a disposizione ma questi trend secondo me valgono anche per l'Europa in particolare abbiamo visto anche i prezzi comunque molto alti anche in Italia soprattutto in alcune città ma stanno aumentando anche un po' in altre che erano così più di provincia per non parlare anche di altri paesi europei città in particolare come per esempio Francoforte, Berlino hanno avuto aumenti enormi dei prezzi degli immobili recentemente ma sono tantissimi ecco quindi questi timori possono essere applicati anche in Europa dove comunque hanno stampato tanta moneta, i tassi erano a zero e questo spingeva l'investimento nei mercati ma anche appunto negli immobili e come dicevo negli Stati Uniti gli ultimi dati mettono in evidenza il fatto che sì le casse sono aumentate ma dell'1,8% ad aprile mentre il 2,4% appunto il mese precedente quindi comunque diciamo questo è l'indice che riguarda le 20 principali aree metropolitane degli Stati Uniti quindi comunque un raffreddamento del prezzo dal 2,4% del mese precedente al più 1,8% quindi aumentano ma sta sempre più rallentando qui c'è questa sensazione poi vorrei segnalare comunque che storicamente se si guardano i dati del passato non è automatica questa così correlazione opposta tra aumento di tassi di interesse e caro degli immobili perché? Perché comunque ci sono stati periodi come per esempio gli anni 80 dove i tassi di interesse aumentavano comunque erano alti ma il mercato immobiliare generalmente poi dipende da anno a anno da zona a zona ma tendenzialmente andava bene quindi anche se aumentavano i tassi aumentavano anche i prezzi quindi non sempre c'è questa anticorrelazione è importante secondo me segnalarlo appunto perché i fattori sono tanti va tenuto presente questo non è un interruttore che alzi e abbassi di là sono tanti elementi in gioco quindi questi gli aggiornamenti di questi giorni venendo brevemente ai futures cercherò di semplificarli il più possibile spero che non risulti noioso per chi di voi già lo capisce e conosce questi strumenti vari di voi come dico sempre vedo siete già abbastanza esperti o anche molto esperti in certi ambiti io spesso imparo dai commenti e dagli spunti che mi date quindi magari può sembrare noioso per alcuni però magari spero che per altri come appunto la persona che mi aveva scritto il commento possa essere utile i futures essenzialmente sono degli strumenti derivati appunto che a livello giuridico sono dei contratti però sono standardizzati quindi con regole fisse e quindi questo consente anche di essere scambiati nei mercati in maniera tale che si possa decidere il prezzo a cui verrà acquistato o venduto un certo bene in futura una data futura quindi oggi si stabilisce che a una certa data futura una parte si impegna a vendere un'altra a comprare un certo bene che può essere una merce, materie prime, strumenti finanziari qualunque cosa insomma essenzialmente vedendo il film una fortuna per due anche il bacon, il succo l'arancia queste cose qua insomma comunque solitamente o materie prime nato soprattutto per le materie prime per esempio infatti sono quotati non nei mercati principali Chicago Mercantile Exchange cioè quindi appunto la borsa valore mercantile perché nascevano con questa ottica, con questa logica anche da secoli ci sono testimonianze di strumenti derivati di fattori futures da secoli con cui appunto perché nasceva da un'esigenza concreta e importante che una parte possa sapere oggi quanto pagherà in futuro una certa merce in modo da poter anche regolare la propria attività di impresa e magari anche l'attività di produzione quindi questo vale sia per chi acquista sia anche per chi vende magari un agricoltore per esempio vuole essere sicuro che gli verrà pagato un tot il raccolto quindi può organizzare anche le sue spese, i suoi investimenti in base a quello viceversa magari anche chi acquista, immaginate una compagnia aerea che deve comprare quantità enormi di carburante e quindi deve predisporre i prestiti bancari, la liquidità, i prezzi dei biglietti eccetera e non può rischiare di affidarsi o almeno è rischioso insomma le grosse variazioni del prezzo del petrolio e dei carburanti quindi magari possono decidere di stipulare dei contratti a copertura della quantità di per esempio carburanti che devono acquistare quindi sanno che li pagheranno un certo tot alla data futura poi magari se il prezzo dovesse ancora più scendere, pace, loro comunque se l'avessero comprato a meno era meglio ma sanno che l'hanno comprato a più e soprattutto a un certo prezzo e poi se aumenta invece a quel punto loro sono sicuri che comunque lo pagheranno quella somma è idem per chi vende e appunto questi contatti futures in questa funzionalità di appunto copertura del rischio servono a dare sicurezza entrambe le parti di prevedere a quanto verrà acquistato e venduto un certo bene in futuro va detto che difficilmente i futures poi equivalgono diciamo danno luogo allo scambio effettivo delle materie prime immaginate petrolio soprattutto materie prime alimentari metalli metalli preziosi industriali cotone carne insomma poi tutto ma anche ripeto anche altri strumenti finanziari eccetera addirittura tassi di cambio tassi di interesse per cui anche queste app appunto che spesso vengono proposte dicono magari investi su non so bitcoin piuttosto che sul dollaro euro dollaro in realtà tante volte non è che le persone sono anche un po ingenuamente portate a pensare che investono effettivamente in quelle cose quindi magari il bitcoin in realtà magari investono una piccola somma ma come il prezzo varia appena magari possono guadagnare molto perdere tutto in un attimo ecco adesso vedremo il meccanismo come funziona però per dire si può anche per esempio appunto le valute tassi di cambi tassi di interesse futures magari sul rendimento di non so un titolo di stato a dieci anni pubblico per esempio il treasury decennale americano insomma c'è un po di tutto e appunto può avere un'ottica di investimento di copertura del rischio oppure un'ottica di investimento e di di speculazione pura e questo perché perché il future per come è strutturato e adesso vedremo sfrutta il cosiddetto effetto leva un effetto leva anche molto molto alto molto molto importante e in particolare come funziona mentre avevamo visto le opzioni sostanzialmente sono dei contratti che impegnano solo una delle parti per cui una parte compra l'opzione dall'altra ad acquistare o vendere un certo bene a una data futura a un certo prezzo poi se il prezzo sarà conveniente rispetto al cosiddetto strike price nell'opzione la parte deciderà di esercitare l'opzione altrimenti no quindi perderai soldi che ha investito nell'opzione ma le opzioni possono dare dei enormi guadagni avevamo visto per cui magari immaginate un'opzione su un titolo che è quotato a dieci euro l'opzione costa non lo so 10 centesimi facciamo un esempio se però quella data futura il prezzo del titolo è arrivato a 13 significa che uno con 10 centesimi si è guadagnato la possibilità di comprare a 10 una cosa che oggi vale a 13 quindi sostanzialmente vale 3 euro quell'opzione una volta esercitata se invece il prezzo scende per esempio il titolo da 10 euro passa a 7 basta non esercitare l'opzione si perdono i 10 centesimi e li finisce il future invece ha un meccanismo diverso che è dinamico per cui ecco si stabilisce sempre con la contoparte di immaginate il prezzo del petrolio sia 100 dollari al barile tra un anno di comprare a 100 dollari al barile sempre e se però il prezzo cambia nel frattempo la parte deve coprire la differenza per cui intanto si versa all'inizio una somma appunto a copertura delle variazioni immaginate per esempio per il future su un barile petrolio da 100 dollari magari si pagano 2 dollari di margine facciamo un esempio quindi in realtà io compro il diritto di acquistare un barile di petrolio a 100 dollari tra un anno pagando solo 2 dollari cosa succede che se il prezzo del barile sale sulla carta io guadagno quindi magari se da 100 arriva a 105 io ho guadagnato 5 euro immagina 5 dollari avendo investito praticamente quasi nulla pochissimo quindi ecco perché un effetto eleva enorme però c'è anche il rovescio della medaglia se il prezzo scende invece per esempio da 100 a 95 facciamo per esempio il margine che noi abbiamo versato facciamo un esempio solo due dollari a quel punto a fine giornata come era successo nel film una poltrona per due c'è la cosiddetta clearing house che appunto si occupa di gestire da una parte dall'altra la copertura dei contratti appunto ci dirà o coprite la differenza di prezzo quindi quei 5 che avete perso subito e allora il contratto future resta valido oppure a quel punto si hanno perso i soldi si ha sostanzialmente perso quello che si è investito la somma versata a margine e il contratto si interrompe lì e quindi ecco l'effetto leva male anche in caso di perdite le perdite possono essere potenzialmente infinite mentre invece nell'opzione al massimo sono il prezzo dell'opzione che abbiamo pagato se non l'esercitiamo quindi il future è estremamente speculativo solo che solitamente magari anche piccoli investitori così per provare magari perché hanno l'idea che un titolo crolli o magari aumenta e se non si hanno tanti soldi a disposizione ma siamo sicuri o almeno ci sentiamo sicuri che il prezzo per esempio aumenterà o calerà molto non ha senso comprare il titolo per cui magari faccio l'esempio del barile di petrolio se noi immaginiamo che salirà molto crollerà non ha molto senso comprare non so certificati per 5 barili di petrolio 500 dollari ma magari compriamo con 500 dollari il diritto il future contatti futures per 500 barili di petrolio a un dollaro l'uno e quindi se anche il prezzo aumenta da 100 a 110 immaginate fate il guadagno di 10 moltiplicato per i 500 contratti che avete quindi investendo 500 dollari immaginate di farne 5000 adesso ho semplificato ma insomma questo sostanzialmente è quindi serve per speculare oppure all'opposto per copertura del rischio quindi questo è il meccanismo nel future molti magari quindi essendo un po così volatile però dicono anche usando queste app che di investimento ma di fatto di speculazione sui futures magari dicono vabbè ci butto lì 50 euro 20 euro ma spesso succede che non so uno magari investe 50 pensa di investire ma sono rifatto scommesse in un certo senso 50 euro e se il prezzo varia poi dipende ovviamente quanto lo prendiamo quanto è la leva tutta una serie ovviamente di fattori che decidiamo noi ma comunque si fa presto quindi magari 50 euro si volatizzano in pochi minuti anche a quel punto la clearing house ci dirà o versate la differenza ulteriore e il contratto continua a essere in vigore oppure a questo punto si interrompe lì il contratto e li finisce quindi ecco spero insomma di averlo spiegato in modo semplice ma anche ecco completo poi magari se volete degli approfondimenti insomma fatemi sapere per quello che mi chiedevate sul sul commento penso di aver sostanzialmente risposto spesso queste app propongono ma personalmente non le ho mai usate perché ritengo che siano appunto speculazioni più che investimenti ovviamente tutto soggettivo può essere utile io per esempio avevo investito in opzioni varie volte quando magari immaginavo con titolo sarebbe crollato o magari che guadagnava molto così investendo magari pochi soldi però con un effetto leva importante compravo le opzioni problema qual è le opzioni che tante volte i prezzi sono adesso non voglio entrare nel dettaglio ma insomma sostanzialmente sono poco liquide quindi magari essendoci pochi venditori poco compratori i prezzi variano molto e tante volte non sono convenienti quindi o proprio il titolo sottostante si dice in senso quello su cui è basata l'opzione fa dei movimenti enormi per cui a quel punto anche il prezzo l'opzione si muove a volte succede che magari il movimento è anche importante ma il prezzo l'opzione ne sente poco perché dicono non so il prezzo denaro è 10 centesimi il prezzo lettera è 20 quindi noi magari dobbiamo comprare 20 la possiamo rivendere a 10 anche se poi aumenta di prezzo magari invece che 10 e 15 o arriva a 20 ma comunque il titolo si è mosso tanto il sottostante e l'opzione no perché non ci sono abbastanza compratori e venditori a volte lo emetti un intermediario finanziario che fa diciamo da come posso dire una sorta di market maker si chiama per cui si impegna a comprare rivendere e quindi garantire sempre che ci sia un compratore un venditore per quell'opzione ma magari con una differenza di forbice denaro lettera molto molto grande quindi comunque anche le opzioni hanno questo problema tante volte almeno insomma io avevo investito qui nei mercati delle opzioni in italia e spesso ho riscontrato questo problema anche un mio amico che me ne parla sempre a volte ci si arrabbia perché non è possibile o magari indovino anche con molta perspicacia i movimenti di un titolo e non riesco a beneficiarne nella mia così nel mio investimento in opzioni quindi hanno questo diciamo problema il future in teoria per come è strutturato con la clearing house si muove molto le perdite possono essere infinite ma non ha questo problema per cui si aggiusta sempre più il prezzo ecco poi non entro nei dettagli anche lì dei problemi tecnici come comprarli eccetera dove sono quotati non voglio complicare troppo però ecco comunque è importante capire la differenza opzione e future spero ecco di averlo semplificato più possibile senza però aver banalizzato nessun concetto fatemi sapere cosa ne pensate se le avete utilizzate se le utilizzate e soprattutto così per curiosità mia se le opzioni anche voi avete avuto se avete investito in opzioni il problema che ho avuto io vi ringrazio e vi saluto ciao a tutti